Nunzio con regia di Carlo Cecchi è il titolo della rappresentazione teatrale che sarà portata in scena dalla compagnia Scimone e Sfameli domani e sabato alle 21.15 al centro giovanile di Alma Ruggero, quarto appuntamento della rassegna fuori luogo. Finalmente dopo qualche anno che ci abbiamo provato siamo riusciti a portarli qui, loro sono una compagnia di Messina e portano il loro primo spettacolo che li ha fatti conoscere al grande pubblico che è Nunzio con la regia di Carlo Cecchi. Domenica 13 poi, sempre alle 21.15 verrà proiettato il film tratto dallo stesso spettacolo. Il film è Due amici presentato alla mostra del cinema di Venezia del 2002 dove ha vinto il Leone d'Oro per la migliore novità italiana. Quindi invitiamo venerdì, sabato e domenica in queste tre giorni per conoscere una delle realtà più interessanti e importanti del mondo artistico e performativo italiano. La compagnia teatrale Scimone e Sfameli è conosciuta sia a livello nazionale che europeo visto la loro attività oramai ventennale. I loro testi sono stati tradotti in 12 lingue. Toccante la storia ma al tempo stesso con un lieto fine, quella alla quale il pubblico nostrano potrà assistere questo fine settimana. È la storia di un killer e un operaio, si incontrano in questa cucina e tra di loro si sviluppa un'intensa amicizia. Qual è il messaggio che volete trasmettere? L'amicizia, lo stare insieme e vincere la solitudine. Ma fuori luogo non si ferma qui, tanti ancora gli appuntamenti in programma. Riprenderemo poi dopo la pausa natalizia da gennaio con un giovane attore che porta in scena uno spettacolo molto forte, si intitola Stasera sono in vena e andrà in scena l'8 e il 9 gennaio Oscar de Summa, che racconta una storia di degrado nella Puglia degli anni 90 intorno al tema della droga. Grazie.